ciao lucia oggi una presentazione un po particolare e userò la mia amica mina la manichina che è il mio manichino e volevo farvi vedere appunto questo chalet che mi avete chiesto è un battus non è uno chalet un battus quindi una sciarpa in realtà triangolare vedete è molto bello il colore è fatto tutto a rete d'irlanda e poi io l'ho diciamo arricchito con qualche particolare in questo caso due belle questi qua erano orecchini che non mettevo più da tempo ho tolto appunto la parte le monachelle e ho deciso di usarli come pendenti per per il mio battus e questo faceva parte di una collana io ogni tanto smonto le collane che magari non metto più e tengo i pezzi che mi servono poi o comunque che mi piacciono particolarmente vedete è lavorato con gli aumenti solo sui laterali quindi comunque lavorato su il lineare quindi non con l'aumento centrale e di fatto questa lavorazione lo rende particolare perché questo battus è una vera e nel senso che rimane molto più largo che lungo quindi rimane molto più avvolgente ma senza avere una punta troppo pronunciata quindi comunque chi non piace molto la punta del degli scialli e quindi portare lo scialle come battus quindi come sciarpa è molto indicato perché effettivamente mi allontano così lo vedete interamente rimane avvolgente ma non troppo profonda la b davanti quindi la punta davanti non scende troppo io a me piace particolarmente adesso ve lo faccio vedere magari anche aperto così lo vedete in tutto il suo splendore perché mi piace è una cosa semplicissima da fare ma veramente molto 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 bella quindi tempo di realizzazione secondo me andando proprio lenti lenti due giorni è proprio una realizzazione velocissima adesso ve lo faccio vedere aperto ecco qui aperto come potete vedere vedere è molto più largo si sviluppa molto più in larghezza che in lunghezza in realtà non è tanto più corto dei degli scialli classici ma semplicemente la lavorazione a rete fa in modo che si stringa molto il punto e quindi lo renda molto più sottile che altri scialli vedete molto veramente molto bello vi facevo vedere prima proprio la le punte ecco qui con i miei l'ho arricchito appunto con questi ciondoli ma è facoltativo la larghezza o lunghezza dipende di questo scialle è di un metro e sessanta un metro e sessanta lavorato con un uncinetto del numero 4 e io l'ho fatto in cotone perché mi piaceva l'idea di poterlo usare in più o meno tutte le stagioni quindi se non parte fatto che un cotone molto molto grosso perché lavorato col 4 comunque un cotone abbastanza spesso mi piaceva l'idea proprio di poterlo mettere in tutte le stagioni e quindi ho voluto farlo in cotone ma se viene realizzato in lana è ancora più caldo ed ancora diciamo più ciccioso passatemi questo termine molto più soffice perché comunque per chi ha già provato a fare il mio scaldacollo infinity potrà aver appurato che nonostante la lavorazione della rete quindi molto traforata comunque scalda perché al momento di indossarlo comunque si si unisce il filato e quindi si ha addosso comunque qualcosa di coprente nonostante comunque la lavorazione sia così a rete benissimo io direi che passerei al tutorial vero e proprio per la realizzazione di questo bactos io ho usato questa cake di cotone molto bella la colorazione è stupenda ed è anche un bel cotone molto morbido che è della icy arms mi si è strappata l'etichetta ma icy arms e vi dico subito che è allora cake natural cotton 100 per cento cotone ed è una cake da 200 grammi da lavorarsi qua mi da solo i ferri ma io l'ho lavorato con l'uncinetto qui indica solo i ferri e mi dice con ferri da 4 mm io di fatto ho usato un uncinetto da 4 mm quindi devo dire che si attiene tranquillamente alla alla misura che da il talloncino questo filato lo potete dopo vi lascio nel nelle info dove l'ho acquistato e quindi vi dico anche dove potete trovarlo vedete bellissimo e io non ho usato tutta una cake io ne ho usata mezza quindi penso all'incirca 100 grammi perché io ho ancora metà cake quindi è anche poi si sa i punti tra più sono traforati i punti meno si usa meno filato si usa quindi io per farvi la dimostrazione vedete mi sono già fatta un campioncino con un filato più grosso così riesco a spiegarvelo meglio ma sono una questione di spiegazione e poi volevo far vedere proprio fatto in lana viene comunque molto bello e adesso questo qua è un è un filato 100 per cento sintetico è un bravo e quindi per la spiegazione userò questo ma solo per farvi vedere sia come viene con un filato che come viene con l'altro e poi per agevolarmi la spiegazione quindi andiamo subito alla spiegazione quindi facciamo il nostro cappietto che useremo anche come anello magico o se preferite quattro catenelle come come preferite tanto non ha nessuna differenza se fate l'anello magico ovviamente dopo l'anello magico andiamo a fare una due e tre catenelle che saranno la nostra prima maglia alta andiamo a fare sempre nella prima catenella quindi nell'anello magico un'altra maglia alta ed un'altra ancora quindi andiamo a fare tre maglie alte in totale andato appiccinare così due catenelle e di nuovo ripetiamo le tre maglie alte quindi una due due e tre di nuovo due catenelle tiro il filo perché mi sia allargato l'anellino e andiamo a fare altre tre maglie alte una due stringiamo bene il cerchio ecco qua che cosa avremo avremo praticamente 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie altri 2 catenelle 3 maglie alte come procediamo allora facciamo una catenella giriamo il lavoro e camminiamo sulle tre maglie alte fino ad arrivare alle nostre due catenelle quindi una due e tre con maglie bassissime entriamo nel primo foro che troveremo quindi con una maglia bassa anche nel foro andiamo a fare tre catenelle andiamo a fare tre catenelle che saranno la nostra prima maglia alta e quindi in questo foro faremo un classicissimo angolo granny quindi tre maglie alte due catenelle e di nuovo tre maglie alte e di nuovo tre maglie alte una due e tre e abbiamo creato il nostro primo lato ora facciamo cinque catenelle 1 2 3 4 5 catenelle carichiamo per fare una maglia alta andiamo a farla nel prossimo foro quindi dopo il blocco da tre maglie alte quindi andiamo a fare una maglia alta due due e tre due catenelle e di nuovo sempre nello stesso foro tre maglie alte questo sarà sempre il nostro i nostri laterali saranno sempre fatti in questo modo scusate si era spenta la telecamera quindi i nostri laterali verranno fatti sempre nello stesso modo vedete il lavoro si presenta in questo modo ed è quindi questa sarà la nostra punta ed è quindi questa sarà la nostra punta abbiamo i nostri laterali e al centro iniziamo la serie di archetti quindi cosa facciamo una catenella voltiamo il lavoro e camminiamo di nuovo a maglie bassissime in questo modo vedete sulle tre maglie alte che ci si presentano fino ad entrare nel primo foro che ci si presenta che è sempre il centro del disegno che si crea sul laterale di nuovo tre catenelle che sono la nostra prima maglia alta e andiamo a fare di nuovo tre maglie alte due catenelle e di nuovo tre maglie alte due e tre di nuovo e al centro dell'archetto sottostante andiamo a fissare questo nuovo archetto con una maglia bassa di nuovo cinque catenelle quindi carichiamo e andiamo a fare una un'altra serie di maglie alte quindi tre maglie alte sono stata distratta dal clacson che suonava l'esterno quindi tre maglie alte di nuovo due catenelle e di nuovo tre maglie alte una due e tre vedete inizia a formarsi quindi la serie di quindi la rete e i nostri gruppi di maglie alte quindi le tre maglie alte le due catenelle le tre maglie alte non sono altro che gli aumenti che ci servono per oscurito un attimo perché c'era un riflesso strano gli aumenti che ci servono per fare allargare lo chalet quindi questa questo disegno laterale avremo sempre questa cosa quindi avremo sempre questo disegno allora rischi a rischio perché non è stata una buona idea e vi faccio vedere un'altra volta ma poi penso che si possa andare avanti da soli quindi una catenella si volta al lavoro e quindi si cammina scusate sono uscita si cammina sulle prime tre maglie alte che ci si presentano perché dobbiamo andare a immetterci nel foro centrale tra le maglie alte quindi ci arriviamo con una maglia bassissima di nuovo tre catenelle che sostituiscono la nostra prima maglia alta e di nuovo altre due maglie alte per un totale di tre dopodiché dopo di che due catenelle e di nuovo tre maglie alte una due e tre cinque catenelle una due tre quattro cinque maglia bassa nel primo archetto che ci si presenta quindi questo qui cinque catenelle una due tre quattro cinque di nuovo maglia bassa nel prossimo archetto esattamente come vi ho fatto vedere in precedenza per l'infinity e ovviamente essendo questo la rete irlandese è proprio nello stesso modo la cosa che cambia è proprio sono proprio gli aumenti laterali ma la rete irlandese si costruisce sempre nello stesso modo dove vedete un archetto sottostante ne andate a fare un altro sopra fermandolo con al centro con la maglia bassa qui vedete non abbiamo più maglie basse perché l'ultimo archetto l'abbiamo fermato quindi carichiamo entriamo nell'angolo e andiamo a fare le nostre tre maglie alte una due e tre due catenelle e di nuovo tre maglie alte e il nostro chalet e il nostro chalet prosegue la sua crescita quindi quello che mi piace di questo chalet è proprio questa seghettatura che si crea sul bordo devo dire che mi piace parecchio infatti penso che farò altri chalet con questa seghettatura magari con dei disegni diversi al centro ma è andato via il sole adesso non si vede più niente vedete il procedimento è per tutto lo chalet in questo modo quindi facciamo la catenella per voltare il lavoro camminiamo sulle prime tre maglie alte entriamo con una sempre una maglia bassissima nel foro che si crea dalle catenelle nella in mezzo ai due gruppi da tre facciamo tre maglie alte due catenelle tre maglie alte dopodiché 5 catenelle ci fermeremo al centro di questo archetto 5 catenelle ci fermeremo con la maglia bassa al centro di questo archetto 5 catenelle e poi quando non abbiamo più l'archetto sotto e quindi non abbiamo più dove agganciarci con la maglia bassa carichiamo facciamo le 5 catenelle e invece di agganciarci in un archetto carichiamo per la maglia alta e andiamo a creare un altro ventaglietto laterale quindi vedete il procedimento è sempre così allora io con l'uncinetto del 4 per arrivare alla mia misura ho fatto contando anche la l'angolo centrale ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 quindi 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 potevo contarli prima 50 giri e sono arrivata proprio alla alla dimensione scusatemi alla dimensione di quindi un metro e sessanta che secondo me è già una bellissima dimensione ora se riuscissi a riallontanare ecco qua l'inquadratura potrei insomma avere una cosa un po' più distante io direi che questo tutorial è brevissimo ma spero comprensibile comunque se non dovesse essere stato chiaro qualcosa sapete che potete trovarmi sul mio gruppo facebook creando con luce franci e sarò lì per darvi tutte le delucidazioni del caso io spero che questo battus sia stato una bella idea anche per i regali natalizi voi potete tranquillamente se non avete pendagli potete fare tranquillamente delle semplicissime nappine da attaccare sugli angoli o anche niente poi va a gusto io volevo un po' arricchirlo e ho usato dei ciondolini che avevo in casa e quindi l'ho un po' arricchito ma è assolutamente facoltativo quella che è importante diciamo è la lavorazione ripeto io l'ho visto fatto da un'amica ecco qua arrivo l'ho visto fatto da un'amica del mio gruppo lina che saluto calorosamente quindi ciao lina lei l'ha fatto con una l'ha fatto simile perché mi diceva che comunque i laterali non non sono uguali io l'ho visto ho tentato di replicarlo ma non avevo visto bene i laterali quindi non è proprio fedelissimo alla sua creazione lina l'aveva fatto con un'altra bordura io ho usato questa per poter far crescere appunto questo battus e lei l'aveva fatto con una lana molto spessa molto pelosa e soffice e il risultato era veramente spettacolare motivazione per la quale ho deciso di ricrearlo e ho voluto provarlo col cotone però ripeto voi potete decidere di farlo con lana cotone di qualsiasi spessore e arricchendolo con qualsiasi pendaglio voi decidiate quindi io spero veramente che vi sia piaciuto questo tutorial spero che facciate dei bei regalini per natale spero che questo sia uno tra quelli che deciderete di fare vi mando un grosso bacio ciao ciao da luci baci